Via! Con il numero 12, Cristian! Con il numero 44, Massimo! Con il numero 33, Ildiago! Con il numero 19, Giuseppe! Con il numero 15, Gianluca! Con il numero 16, Mattie! Con il numero 21, Capitano Andrea! Con il numero 7, Alexandra! Con il numero 10, Grace! Francesco! E con il numero 80, Ronaldo Tassi Spaneto! Francesco! E con il numero 9, Filippo! Francesco! Forza! Il numero 4! than